Il vostro punto di partenza, il primo vostro spettatore dichiarato è stato Claudio Bisio Claudio Bisio adesso è impegnato a Sanremo nel festival Voi in questo spettacolo per la prima volta cantate E il vostro tutor è stato Enrico Ruggeri Mi aspetto la domanda perché stai facendo una serie di incastri Faccio una premessa perché poi arriviamo alla domanda Enrico Ruggeri E questo è proprio il punto successivo Enrico Ruggeri ha vinto il festival di Sanremo nel 93 con il mistero E aveva proprio come chitarrista Luigi Schiavone la band Luigi Schiavone è con voi Ecco la domanda alla fine qual è? Benissimo, è proprio questa La domanda è proprio questa Perché quest'anno non avete pensato di presentarvi a Sanremo? Magari avreste vinto Ma forse come cantante E certo, come cantanti Noi diciamo che è la prima volta che cantiamo però Siamo due voci prestati al teatro Nel senso che il nostro canto è molto funzionale Come diceva prima A raccontare delle storie musicali Scritte da Gabriele Giannacci Noi poi i testi sono tutti nostri Le canzoni sono loro Quindi è molto funzionale per quello che facciamo Però chissà mai nella vita Magari un giorno L'anno prossimo Magari arriveremo noi con però Bisio alla chitarra E certo, meglio, è vero È sì, è sì